Ciao e bentornati o benvenuti. Dopo la visione di Deadpool e Wolverine, il confronto con Spider-Man No Way Home va fatto soprattutto per l'abuso dell'utilizzo riguardo i Kamei. Si tratta di film con storie forzate e piene per l'appunto di Kamei. L'intento è sfruttare l'effetto nostalgia che in Spider-Man No Way Home è stato assolutamente vincente. Questo però ha discapito di una narrazione che presenta evidenti difetti. Deadpool e Wolverine intraprende la stessa strada e infatti sta incassando molto bene. I Kamei e la nostalgia sono le soluzioni Marvel per risollevarsi dai suoi ultimi flop? Sembrerebbe di sì, in attesa di Avengers Secret Wars che potrebbe essere proprio il film evento dedicato a questi elementi. Attenzione perché il video potrebbe presentare spoiler sui seguenti film. Prima di iniziare mi raccomando se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace per supportarmi, attivate la campanella delle notifiche, condividete e seguitemi sulle mie pagine social, link giù nella descrizione. Detto ciò si può partire con lo scontro tra Deadpool e Wolverine e Spider-Man No Way Home. Trama. L'aspetto meno curato in entrambe le pellicole. In Deadpool e Wolverine, Wade Wilson viene assoldato dalla TVA per un motivo non ben precisato, ma si sa che il suo universo rischia di essere cancellato. Allora Deadpool prende in mano la situazione e insieme a Wolverine cercherà di salvarlo. Dall'altra parte, in Spider-Man No Way Home, Peter Parker va da Doctor Strange per cercare di far dimenticare a tutti la sua vera identità, rivelata da misterio in Spider-Man Far From Home. Però in maniera accidentale iniziano ad arrivare personaggi dagli altri universi. Come già detto in precedenza, la narrazione comprende difetti e forzature sia da una parte che dall'altra. Questo accade per dare risalto in maniera migliore possibile ai Kamei in entrambi i film. In Deadpool e Wolverine vengono inseriti bene, perché vi è Deadpool insieme a Wolverine che finiscono nel vuoto, luogo che abbiamo imparato a conoscere nella serie Loki, anche se qua viene gestita in maniera diversa, visto che nella serie di Loki veniva spedito nel vuoto chiunque fosse una variante o comunque fosse una linea temporale errata. Qua invece troviamo tutti i personaggi della Fox che sono diventati praticamente dimenticati, scarti. Mentre in Spider-Man No Way Home l'inserimento dei Kamei avviene per un episodio molto forzato, ovvero questo incantesimo di Doctor Strange che tra l'altro è un personaggio che in questa pellicola sembra non centrare niente con quello che abbiamo conosciuto nelle precedenti pellicole e poi vi è anche un Peter Parker che doveva essere cresciuto dopo ciò che aveva affrontato con gli Avengers e invece sembra essere tornato indietro. La cosa che mi ha dato fastidio è che appunto non vi è un'evoluzione che ci doveva essere da parte di Peter Parker e poi vi è anche la scena della morte di Zia May. Secondo me non meritava di essere gestita in questo modo. Per quanto mi riguarda Vince, Deadpool e Wolverine. Effetti speciali! Oramai la Marvel ci ha abituato a degli standard ottimi. Sicuramente possiamo contestare la Marvel sotto tanti punti di vista ma dal punto di vista tecnico probabilmente è stata sempre costante a parte qualche eccezione. Vedi Ant-Man Quantumania. In questo caso hanno gli effetti speciali gestiti in maniera differente perché in Deadpool e Wolverine sono utilizzati in maniera meno visibile, ecco, meno impattante a parte alcuni casi che riguardano per esempio le sequenze nel vuoto o altre riguardanti il villain. Mentre in Spider-Man No Way Home gli effetti speciali ve ne sono eccome. Da questo punto di vista mi sento di premiare Spider-Man No Way Home. Trasporto emotivo. Deadpool e Wolverine è tutto concentrato sul personaggio di Hugh Jackman tormentato dal proprio passato. Mentre in Spider-Man No Way Home uno su tutti vedere lo Spider-Man di Tom Holland combattere insieme allo Spider-Man di Tobey Maguire e allo Spider-Man di Andrew Garfield. E poi vogliamo parlare anche degli antagonisti? Scene che avremmo voluto vedere da tanto tempo. Un sogno a occhi aperti soprattutto per tutti gli appassionati di Spider-Man e poi vi è anche la morte della zia May. Questa a mio avviso è una vittoria abbastanza scontata perché in Deadpool e Wolverine il passato di Logan viene poco approfondito, mal gestito e poi anche il rapporto tra Wolverine e Deadpool si picchiano tutto il tempo. Non vi è una evoluzione del rapporto tra questi due che comunque all'inizio non si conoscono e io mi aspettavo anche qualcosa dall'incontro tra Wolverine e X-23. Potevano giocare molto dal punto di vista emotivo e invece non lo hanno fatto. Il vicitore non può che essere proprio Spider-Man No Way Home. Scenografia. In Deadpool e Wolverine, oltre ai paesaggi urbani, vi è anche un ambiente riguardo una foresta innevata, il vuoto soprattutto con quel logo 22th Century Fox che fa il suo effetto e poi il regno di Cassandranova dove c'è il corpo di Ant-Man messo lì e dove all'interno del casco vi è proprio la tana di Cassandranova. Mentre in Spider-Man No Way Home vi è principalmente un'ambientazione urbana levando magari quell'inseguimento che riguarda Spider-Man e Doctor Strange. A causa dei scenari più variegati mi sento di premiare Deadpool e Wolverine. Sonoro. Da una parte in Deadpool e Wolverine vi è il compositore Rob Simonsen, mentre in Spider-Man No Way Home vi è Michael Giacchino. Dovrebbe vincere in automatico quest'ultimo che per quanto mi riguarda è uno dei migliori compositori in circolazione, ma se dobbiamo confrontare il sonoro nella sua interezza e quindi non solo la colonna sonora e i temi musicali ma anche le canzoni inserite all'interno di questi cinecomic, Deadpool e Wolverine ha avuto veramente un forte impatto da questo punto di vista. Perché basta citare solamente l'opening che sta girando sul web e la nuova linfa che ha dato alla canzone Bye 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 degli NSYNC che addirittura hanno modificato nel loro canale ufficiale la canzone mettendo tra parentesi il titolo del film di Deadpool. Durante la visione le canzoni vengono utilizzate in contesti che sembrano non avere nulla a che fare ma che invece funzionano dannatamente bene. Io mi sento di premiare Deadpool e Wolverine, probabilmente un sonoro che ti rimane più in testa, è vero, sono canzoni che non sono state create appositamente per il film. Michael Giacchino in Spider-Man No Way Home ha fatto delle belle musiche ma ne ha fatte altre forse più distinguibili. Quindi mi sento di dare la vittoria, come vi dicevo, a Deadpool e Wolverine. Kamei, l'elemento che più ha fatto discutere sia nell'una che nell'altra pellicola. In Deadpool e Wolverine ve ne sono veramente svariati, di più probabilmente rispetto all'altra pellicola con cui si scontra e alcuni sono alquanto sorprendenti. Mentre Spider-Man No Home è stata la prima pellicola dell'MCU a lanciare questa moda e soprattutto i Kamei hanno una parte molto importante per quanto riguarda la trama. Rispetto a Deadpool e Wolverine dove sì, ci sono i Kamei, però diciamo che comunque hanno una parte un po' più marginale. Decido di premiare Spider-Man No Way Home. Combattimenti. In Deadpool e Wolverine ve ne sono veramente tantissimi che riguardano i due protagonisti, che si prenderanno allegnate a destra e a sinistra, spesso durante la visione. I combattimenti che avvengono nel vuoto. Oppure, quando si arriverà verso la fase finale, ci sarà quel combattimento incredibile contro l'orda di Deadpool. Mentre in Spider-Man No Way Home, i combattimenti più avvincenti sono tutti concentrati verso il finale. In questo caso, a me gasano tantissimo le fasi action e i combattimenti di Deadpool. Nonostante comunque le belle fasi di combattimento di No Way Home, soprattutto il fatto di vedere i Spider-Man combattere insieme, cosa che forse in Deadpool e Wolverine ne viene a mancare. I due protagonisti combattono più per conto proprio. Difficilmente li vedremo cooperare nel combattere. Al di là di questo, ho apprezzato molto di più le fasi di combattimento di Deadpool e Wolverine. V-Lane. In Deadpool e Wolverine vi è Cassandra Nova, la sorella di Chas Xavier che nel vuoto si è creata un vero e proprio impero, con tantissimi seguaci. Mentre in Spider-Man No Way Home vi sono tanti V-Lane che abbiamo conosciuto nei passati film di Spider-Man. I V-Lane di Spider-Man, anche come importanza nel mondo dei cinecomic, il Dr. Octopus di Alfred Molina, il Green Goblin di William Dafoe. Villane che sono rimasti nel cuore di tantissimi fan. Dall'altra parte vi è invece un Villane che secondo me magari viene un po' oscurato da questi. È stato costruito bene, è vero. Forse un po' stereotipato, ma risulta temibile. Io in questo senso mi sento di premiare Deadpool e Wolverine perché No Way Home è troppo trascinato e aggrappato ai camei che vanno spuntando durante la visione. Colpi di scena. In entrambe le pellicole giocano un ruolo fondamentale i camei. In Deadpool e Wolverine vi è la scena della torcia umana che è veramente una delle più esilaranti del film. E poi vi sono anche alcune battute sorprendenti da parte di Deadpool. Vogliamo metterci anche Cassandra Nova che arriva sulla Terra? Oppure l'orda di Deadpool che attraversa il portale? Per quanto riguarda Spider-Man No Way Home invece sono praticamente tutti incentrati sui camei. La sorpresa principale è stata quella di vedere gli altri due Spider-Man di Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Colpi di scena che tanto avranno fatto impazzire i fan di Spider-Man e secondo me da questo punto di vista i colpi di scena di Spider-Man sicuramente sono stati più forti. Non si parla di colpi di scena che stravolgono la narrazione, però sorprendono per vederli nel film in quel determinato istante. In questo caso vince Spider-Man No Way Home. Adesso non resta che decretare il vincitore tra Deadpool e Wolverine e Spider-Man No Way Home. Vi dico naturalmente che questi sono giudizi personali. Il vincitore è Deadpool e Wolverine. Una pellicola che mi ha intrattenuto di più probabilmente coinvolge meno dal punto di vista emotivo però coinvolge tantissimo invece dal punto di vista dell'intrattenimento, dell'aspetto comico e poi le sorprese non mancano. Quindi questo è il mio parere. Fatevi sapere giù nei commenti invece voi chi preferite tra Deadpool e Wolverine e Spider-Man No Way Home. Rimando al mio prossimo video. Ciao!